Ho letto che il Rig Veda è la raccolta più antica, redatta fra il 1500 e il 1200 avanti Cristo, di 1028 inni, con i quali gli dei sono invitati al sacrificio. Contiene diversi miti sulla creazione, nella quale è essenziale l'offerta sacrificale. È così? No, perché l'unico sacrificio che noi concepiamo è quello dell'io personale ed egoistico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.